...con me stesso perché sono grasciuto con i 99 boss, grazie. ... ... ... 9291991 ...un giorno come tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato, il gabbia sta facendo reprimento e dentro, scolta dico reprimento, chi da so, denunce, combattosive, dentese e bene che significa, è marginazione esattamente quanto costa marghe dentro sociale, otticina 999. Sento di parole voglio pure l'amore Se non scatta le manette strette a corsi dentro il cellulare Voglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio E le forali, voglio, se non bisogna soddisfatto Sei sicura, non ti puoi sbagliare Voglio, pare che una bella giacca al tuo telefono E non c'è il tuo mare Allora, chissi, è un momento, è dura, scusa A te piace la rametterò come ti preoccupa Corre, corru, vai, io Corre, corru, vai, io Corre, corru, vai, io Corre, corru, vai, io Corrego il mio aio Corrego il mio aio Possivo vivere una vita intera Come spirito di frontiere In un paese neutrale Anni perse da aspettare Qualcosa, qualcuno, la sorte O perché non la morte? Ma la tranquillità Quando il muro aperto alla sinistra sabita Non è stasare dalle più una fragilità E lui è una fragilità Ma io, io, io Forse il tossico che muore proprio sotto a un fattore Forse un inaspettato Aumento il ruolo e il suono E forse è un ulicenziamento E troppo il ruolo padrone Forse l'analisa che faccio E lui è la mia E lui è il suo bene E non lo dico E nasca quel calore Ma sonne e brucia Quante bene Trasforma la tua vita Tu non la puoi spiegare Una sorta di apparente Illogicità Ti fa vivere una vita Che per altra subita Ma tu fai la cosa giusta Ti la detta più calore E brucia in mente Oggi è un mostro d'amore Che per altra subita 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 Il nostro canale è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti